Buongiorno amici, buon giovedì, giovedì 13 di gennaio, anche oggi siamo qua perché vogliamo portarvi la musica dei nostri ragazzi. Oggi avremo la possibilità di ascoltare il nostro Alex Protti, abbiamo già ascoltato nei giorni precedenti, ma visto che i nostri ragazzi ci regalano sempre due canzoni nelle nostre puntate di Degni Nota, ci andiamo ad ascoltare anche la seconda canzone che Alex ci ha regalato. Allora siete pronti amici? Renato sei pronto? E allora vai, Alex Protti. And these places, what are we living for? A bunch of places, I guess we know the story. Oh, then all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mind is quiet. And the cotton, in the pantomime. Oh, the light. Does anybody know what we are living for? Sure must go. Sure must go. Sure must go. Yeah. In time my heart is breaking. My brain didn't make a fear. We bought my spine. Still stays young. Whatever happened. Whatever happened. I'll leave it all to change. Another heartache. Another feral man. Let us know why we are looking for you again. Turn her to the garden. Oh, do what she said? We are looking for. Let us know that we are looking for the gullesson lady. Yeah. I must be warm up. Now I surely told her. I'm running home. Now what she said? It was. Not ông that you know what we are looking for. Show my skull Show my skull Yeah, yeah Oh, it's time my heart is breaking My breaking, making feelings But my mind still stays on Oh, 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 oh My soul is pain Delight the wings Nobody cries Happy days of yesterday You know I never die I can fly Yeah, my friend Show my skull Yeah Show my skull Yeah, yeah I'll face it in the green I'll never ever feel I'll be a world if you're sure I top the beard I am a kill I ask to find the real To carry on Even the show Oh, 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 oh Show my skull E questo era il nostro Alex Protti Allora amici, adesso lo sapete Prima di ascoltarci un'altra bella canzone Prima di riportare sul palco di Degni di Notte i nostri ragazzi C'è questo nostro messaggio Questa nostra vacanza Alla quale noi teniamo tantissimo Anche perché Sarà una vacanza da sogno Fantastica Puglia Andiamo in Puglia Ma sarà lo spot A spiegare tutto quello che accadrà Dal 5 al 12 di giugno E subito dopo Arriverà la bella musica La bella canzone La bella voce Di Maria Chiara Leoni Vai Renato Ragazzi è ufficiale Amici Si parte Perché la nostra vacanza È in partenza Dal 5 al 12 giugno 2022 Fantastica Puglia Marina di Pulsano Nicolaus Club Hotel 4 Stelle Il Gabbiano A 770 euro Tutto compreso Amici avete capito L'orchestra Bergamini Nerea Danze Una settimana da sogno In un villaggio fantastico Mi raccomando Qui vedete i numeri Della nostra agenzia Che ora chiamate Per qualsiasi informazione E soprattutto Per prenotarvi Perché vogliamo Passare insieme a voi Una settimana da sogno Poi ragazzi Abbiamo Andrea Nicole Che tutte le mattine Mi faranno Scuola di ballo Mi insegneranno I passi segreti Della nostra tradizione Dei balli di gruppo Mi raccomando Allora avete capito Che dal 5 al 12 giugno 2022 Brava Fantastica Puglia A Marina di Pulsano Complimenti Al Nicolaus Club Con l'hotel Il Gabbiano 4 Stelle 770 euro Tutto compreso per voi Fantastico E allora ragazzi Vi aspettiamo C'è il sole attorno a me C'è il tutto Qual wa... Tentana ... ... ... ... You Yeah If I had To be alone Silence Would rock my tears Cause it's all about love it is And I know better How life is A waking feather So I put my hands Around you Around you And I know that I'll be living soon My eyes Around you They around you Can't you see that I can't stop shaking I'm dancing in the room And if I was in the wood with you No need for anything But music Music the reason why I'm not Time still exists Time still exists Time still exists Time still exists So I just put my hands Around you Around you And I know that I'll be living soon On my eyes Around you They around you They around you They around you Tredicesima 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 puntata di Degni di Nota Mancano tre puntate Eh Alla fine Ricordatevi La grande finale Sabato 29 di gennaio Mi raccomando State vicini Ai nostri ragazzi Perché se la stanno Giocando Se la stanno Se la stanno Mettendo tutta Perché Tutti vogliono Arrivare Alla finale Di questa quinta edizione Di Degni di Nota Allora come sempre Grazie a videoproduzione Maltone Teleromagna Oroge Da Luca Novella Tutti i miei ragazzi Anzi tutti i nostri ragazzi Una buona giornata Ci vediamo domani Dai che chiudiamo così Questa bella settimana di gennaio Ore 14 e 30 A domani Le edizioni musicali Novalis Vi augurano Una buona giornata www.novalis.it Penso, quante volte io penso, a un amore travolgente, che mi faccia stare bene, che mi possa far sognare, già lo posso immaginare. Credo, forse ancora io ci credo, a un amore sconvolgente, che mi lasci senza fiato, che mi porti via la mente, già lo posso immaginare. Io lo cerco qua, dove ci sei tu, dove posso sognare anch'io. Io lo sogno ormai, da un'eternità, voglio crederci. Mille dolci acrobaleni, che si gettano nel mare, fino a far tremar la pelle, e stelle senza fine, che si stendono sul cielo, per poi cadere sul cuore, fino a farti stare male. Calda, quello che non può finire, già lo posso immaginare. Voglio, io lo voglio intensamente, un amore devastante, che mi strappi tutto il cuore, che mi porti fino al sole. Mille dolci acrobaleni, che si gettano nel mare, fino a far tremar la pelle. E stelle senza fine, che si stendono sul cielo, per poi cadere sul cuore, fino a farti stare male. È l'amore che vorrei, questo è l'amore che vorrei. È tutto quello che io cerco, tutto quello che io voglio, è l'amore che vorrei. È tutto quello che io cerco, tutto quello che io voglio, è l'amore che vorrei. E stelle senza fine, che vorrei.